Musica Stamane Papa Francesco nei saluti dopo l'udienza è tornato con il pensiero alle vittime dei conflitti. La guerra ha detto è un male preghiamo per la fine delle guerre. Trattative ancora in corso per il super bonus 110 ore decisive per un'eventuale proroga per quei quantieri ancora aperti. Sentiremo il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Verona Carlo Trestini. Stamane è stato presentato il calendario sfilate per il 2024 che coinvolgeranno tre comuni su quattro tra Verona e provincia nei prossimi mesi. Primo evento 13 gennaio con la cena di beneficenza di apertura a Bussolengo. Un cordiale saluto a voi tutti gentili amici e bentrovati a questa nostra edizione del telegiornale. Farsi padrone del bene e del male è una tentazione, l'insidia più pericolosa per il cuore umano. E' quanto ha detto Papa Francesco questa mattina nel corso dell'udienza generale annunciando una nuova serie di catechesi dedicate al tema dei vizi e delle virtù. L'omicidio di Abele ha detto il Papa non è cominciato con una pietra scagliata ma con il rancore che Caino ha sciaguratamente custodito facendolo diventare un mostro dentro di sé. Punto di partenza per questa riflessione può essere il libro della Genesi dove si descrive la dinamica del male e della tentazione attraverso l'incontro dei nostri progenitori con il serpente simbolo del male. Il serpente è un male insidioso, dice il Papa, riesce a mimetizzarsi facilmente, per questo è pericoloso. Nei saluti dopo l'udienza generale il Papa è tornato col pensiero alle vittime dei conflitti chiedendo preghiere soprattutto per le popolazioni di Ucraina, Palestina e Israele, preghiere per chi soffre la violenza e la guerra. Il Papa ha lanciato il suo appello per i paesi devastati dai conflitti chiedendo ancora una volta di pregare specialmente per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele. La guerra è un male, ha detto il Papa, preghiamo per la fine delle guerre. Veniamo ora al Veronese, domani a Parona sarà il giorno della bomba in conseguenza di quelle che saranno le operazioni di disinnesco di un ordigno della seconda guerra mondiale. Per questo è pronto il piano di intervento per l'assistenza della popolazione interessata, un'operazione che comprende l'evacuazione di 2828 residenti in quella che è considerata la zona rossa. Le operazioni di evacuazione a Parona dovranno essere completate domani entro le 7.30. L'intervento si prevede avverrà una durata di 9 ore durante le quali sarà anche chiusa tutta la viabilità stradale da e per la Valpolicella, oltre alla stradale del Brennero e la linea ferroviaria. Il perimetro della zona rossa ricomprende infatti tutto l'abitato di Parona e due case che ricadono nel territorio comunale di Negrara. Ed ora andiamo avanti con un altro servizio, parliamo di Superbonus 110. Le trattative sono ancora in corso a livello nazionale su questo tema, soprattutto per un'eventuale proroga per quei cantieri che sono ancora aperti. Sull'argomento Lucio Fasoli ha intervistato il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Verona, Carlo Trestini. E' ancora caos intorno al Superbonus del 110%. Dopo la revisione impostata dal governo, sarebbero circa 10.000 i cantieri aperti con numerose segnalazioni di difficoltà, da cui potrebbero nascere anche problemi legali. Dal 1 gennaio la detrazione passerà dal 110% al 70%, sempre ammesso che i proprietari concorrano al restante 30% e che l'intervento comporta il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oggetto dei lavori. Negli ultimi giorni si parlava di una possibile proroga per fruire del bonus nella misura del 110% e del 90%. Il governo sarebbe al lavoro per introdurre, tramite un decreto ad hoc, uno stato avanzamento lavori straordinario. Per saperne di più abbiamo sentito Carlo Trestini di Ance Verona. La situazione è un po' critica. Proroghe sistematiche non dovrebbero esserci e non vengono nemmeno chieste. Quindi dovrebbe, speriamo almeno per la chiusura dei lavori, fare un sale emergenziale per almeno 2-3 mesi, che dirà la possibilità a chi ha fatto già il 60-70% dei lavori di terminarli in sicurezza e in qualità. E qual è il rischio eventuale se non si raggiungesse questo? Purtroppo molti lavori rimarranno non conclusi, non si potranno concedere la fine lavori e perciò l'accessione dei crediti oppure lo sconto in fattura. E questo comporterà non chiudere i lavori e rimanere con committenti che non avranno finito i lavori, non potranno usufruire dell'abitazione. Condizioni che rischiano di essere estremamente penalizzanti nella considerazione del ritardo inquiverso nei cantieri e delle difficoltà a reperire fondi da parte di alcuni proprietari. Sì, soprattutto dovranno subentrare nel futuro bonus che è quello del prossimo anno, che prevederà comunque un 70%, però comunque dovranno sopportare i clienti delle spese che non avevano messo in preventiva e metteranno sicuramente in difficoltà. Quanto una decisione? Si spera che, si diceva oggi, oggi o domani al massimo, col mire prorogo e dovrebbe definitivamente avere la decisione finale. Da tempo è nato un vero e proprio pressing nei confronti del Governo da parte delle associazioni di categoria e di rappresentanti dei cittadini, oltre che delle forze politiche che hanno varato e sostenuto la misura. E questa mattina è stato presentato il calendario Sfilate 2024 che coinvolgeranno tre comuni su quattro tra Verona e provincia nei prossimi mesi. Il primo evento di questa edizione 2024 di Carnevale Veronese, il 13 di gennaio a Bussolengo, con una cena di beneficenza e di apertura. È un calendario fito di appuntamenti quello presentato questa mattina in provincia per il Carnevale Veronese, uno degli eventi più sentiti tra città e provincia, che scatta già dalle prime settimane del 2024, rimanendo in un clima di allegria anche nel freddo invernale. Una macchina enorme, quella del Carnevale, che vede coinvolte migliaia di persone in lungo e in largo nei vari paesi della provincia veronese. Una provincia, un Carnevale senza confini. Con questo bellissimo titolo, oggi ufficialmente presentiamo il Carnevale 2024, perché il 2023 si sta concludendo, però noi siamo in pieno movimento e ufficialmente viene presentato a sfilate, investiture, elezioni, ma soprattutto una carrellata di 78 eventi carnevaleschi con il patrocinio di 60 comuni. In primis la provincia di Verona, che ringraziamo anche per questa bellissima location, Sala Rossa. È una tradizione che bisogna portare avanti nel territorio, proprio ricordandosi com'era e quindi avendo proprio questo periodo di festa anche giocoso dove ci si trasforma, ci si rende diversi da come si è di solito. E quindi è un'occasione importante perché il Veneto e Verona la fa da padrone in questo particolare evento. Quindi i Carnevali sono particolarmente sentiti non solo nella città di Verona, cioè nel venerdì di Agnocolar, ma in tutto il territorio. Ogni comune si dà da fare alle proprie organizzazioni, le proprie proloquo, le proprie associazioni che vivono proprio tutto l'anno per il Carnevale. Quindi abbiamo visto anche la preparazione dei carri, che una volta erano molto artigianali, adesso hanno delle movimentazioni meccaniche, elettroniche particolari. Quindi abbiamo delle intere comunità che vivono il Carnevale in maniera diversa. Privati, singoli e intere famiglie che si spendono per il Carnevale e trovano occasione di relazione e compagnia nella società dell'individualismo. Impegnate anche alcune aziende del territorio per sostenere economicamente le iniziative. Il pastificio Vesani ormai da tanti anni è affiancato al Carnevale della provincia di Verona e quindi ne sostiene le attività con tutto quello che può essere la nostra presenza attiva perché crediamo fortemente che questo sia un bellissimo movimento di persone, di volontari che cercano poi di creare occasioni di vita, di comunità, anche nel segno chiaramente della convivialità, dell'allegria. Perciò sono fenomeni estremamente positivi per la società e quindi noi ci sentiamo davvero molto bene perché questo rispecchia anche la filosofia della nostra azienda. Quando sarà il primo evento? Il primo evento abbiamo la cena di apertura Scopo Benefico il 13 di gennaio e poi subito giorno dopo saremo a Santo Stefano di Zimella con una bellissima sfilata e si concluderà il 7 di settembre al Carnevale Settembrino a Torri dal Benaco. Sono tanti i presepi in mostra in questi giorni nelle chiese di Verona, alle porte della città, nell'oratorio di Quinzano esposto il 46esimo presepio meccanico realizzato con maestria dai fratelli Martinelli. Ancora una volta propone la natività all'interno di un paesaggio storico ricco di personaggi e stati in movimento con giochi di acqua. Esposto nell'oratorio Paolo VI a fianco si trovano piccole rappresentazioni di diorami presepi in miniatura che propongono la natività attraverso diversi punti di vista tra storia e attualità. Negli 800 anni del presepe di Greccio, celebrato quest'anno, si sono viste rappresentazioni di ogni tipo che hanno ricordato l'evento della nascita di Gesù, talvolta però cercando di passare ideologie di parte anziché riferirsi al fatto storico. Ne parla nell'editoriale di questa settimana Don Bruno Fasani. È sempre difficile dire cose non belle durante il periodo natalitio. Non parlo certo della guerra che rimane un dramma gravissimo di fronte al quale tutti noi non dobbiamo far altro che pregare perché Dio raggiunga il cuore dei potenti per farli diventare più ragionevoli. Dicevo delle cose antipatiche, mi riferisco a una cosa in particolare, l'uso strumentale del presepio che è stato fatto in questi giorni da parte non soltanto di un partito, e sto pensando al partito di Emma Bonino, la radicale, la quale ha fatto stampare un biglietto di auguri in cui la natività di Gesù viene rappresentata in varie sfumature. Un Gesù bianco con due papà, uno con due mamme, una con una Madonna singola e poi un bambino di colore, e questo sarebbe anche il meno perché sappiamo che Dio si incarna in ogni carne a prescindere dal colore. Ma quello che mi ha fatto anche un po' di amarezza è stato sentire di quel prete, di quel parrocco che ha voluto allestire un presepio togliendo la figura di Giuseppe per mettere vicino alla Madonna una donna, per indicare che oggi Gesù nascerebbe anche all'interno di una coppia lesbica. Io credo che Gesù nasca dove vuole, nei cuori di chi dimostra un minimo di accoglienza nei suoi confronti. Però vorrei dire ai preti e ai politici, non usate strumentalmente il Vangelo, non usate strumentalmente uno dei momenti più teneri e profondi del mistero cristiano che è l'incarnazione, per giustificare scelte ideologiche che sarà la storia, dire quanto erano lungimiranti e quanto erano vicini al Vangelo. Lasciamo a Dio il posto di Dio e le ideologie lasciamole agli uomini. E chiudiamo con alcune immagini che arrivano dai giovani della Col di Retti che sono tornati sui loro trattori per augurare buon anno a tutti e si sono riuniti ad Albaretto d'Aldige, erano circa un centinaio, per formare una grande scritta 2024 accompagnata da una stella simbolica con i loro trattori. Col calare della sera poi i fari accesi e l'effetto pilotecnico ha dato un risultato per certi versi suggestivo. La nostra intenzione, ha detto al delegato provinciale di Col di Retti Giovani, Riccardo Pizzoli, è quella di comunicare un po' di leggerezza e fiducia nel futuro. Se non lo facciamo noi che abbiamo moltissima voglia di fare molti progetti per le nostre aziende, chi dovrebbe farlo? Con queste immagini si conclude l'odiana edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata a tutti voi. Grazie. Grazie.